Vigilia di campionato in casa rossonera, sfida importantissima in chiave salvezza a Bari domani con fischio di inizio alle ore 15. Gautieri non recupera da Versa mentre Plasmati sarà regolarmente al suo posto. C'è da cancellare lo 0-3 della gara d'andata, soprattutto c'è da portare a casa un risultato utile in chiave salvezza. Questa la possibile formazione rossonera schierata secondo i canoni del 4-3-3. Le ali tre pali, linea difensiva 4 con Almice, Aquilantia e Mammarella. I tre in mezzo al campo, Di Cecco, Minotti e Volpe, tridente offensivo con Falcinelli, Plasmati e Piccolo. Dirige Ostinelli di Como, il tecnico Gautieri. Sarà una partita importante come lo sono state in tutte le partite che abbiamo giocate. Normale, inevitabile che mancano sette giornate, si affrontano due squadre che comunque lottano per migliorare la classifica. Affrontiamo una squadra importante dove ha 47 punti e non ha 40 perché non ci dimentichiamo che hanno ben avuto 7 punti di organizzazione. Però comunque sarà una partita importante ma come lo saranno le ultime 7. Ci sono tantissimi sconti diretti, è normale che la classifica si può accorciare. Io dico sempre che da 46 in giù siamo tutti a rischio e è anche normale che essendoci tanti sconti diretti la media si può anche abbassare. Però indipendentemente da tutto noi dovrebbero cercare di ottenere il massimo di punti in queste 7 partite.